Manchester City RB Lipsia 3 a 2 Vice per Manchester City 3 a 2 Lipsia Verdi purtroppo per fortuna Veniamo i tre gol e quelli di Lipsia Per Manchester Haaland Phil Foden e Julian Arvarez Tutti e tre nel secondo tempo Per l'RB Lipsia i due gol sono di un unico giocatore che è Lois Topind E entrambi i gol arrivano nel primo tempo Va bene? Pensate che tutte le statistiche sono a favore ovviamente del Manchester City Bene, complimenti Il video termina qua Ciao a tutti